Parte a Buccheri l'iniziativa Case ad un euro. Sua apposita iniziativa dell'amministrazione comunale, retta dal sindaco Alessandro Cagliazzo, è stato effettuato il censimento di tutti gli immobili fattiscenti insistenti nel centro storico e comunque nella parte più antica del centro urbano in precarie condizioni di abitabilità. L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che sia necessario recuperare e riqualificare il centro abitato di Buccheri sulla scia di quanto già fatto da altri comuni siciliani. Il Consiglio Comunale, condividendo l'importanza della iniziativa in seno all'ultima seduta, ha approvato il regolamento sulle case ad un euro. Sono circa 220 gli immobili censiti che potrebbero avere le caratteristiche per partecipare a tale iniziativa. A seguito dell'approvazione del regolamento, il Comune di Buccheri pubblicherà a breve un apposito avviso pubblico e ciascun proprietario interessato potrà candidare il proprio immobile. Nell'avviso saranno indicati tutti gli aspetti tecnici della iniziativa, la tempistica ed ogni altra informazione necessaria.